Approvato dalla seconda commissione consigliare della regione il progetto di legge sulle prime disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico. Il testo legislativo era stato sottoposto a un passaggio nei giorni scorsi in prima commissione per il Via Libera su alcuni aspetti di natura finanziaria. Poi il ritorno nella commissione competente per materia che ne ha approvato i contenuti senza alcun voto contrario. La legge si inserisce nella normativa nazionale sulle regionalizzazioni. Si è compiuto un passaggio fondamentale, afferma l'assessore regionale all'ambiente Gian Paolo Bottacin, promotore del progetto di legge, in quanto essendo stato esaminato dalla commissione in sede redigente, ora il testo passa il voto finale dell'aula consigliare che dovrà approvarlo senza possibilità di ulteriori modifiche. Ciò significa che siamo davvero prossimi all'approvazione di una normativa di assoluto valore. Uno dei passaggi fondamentali riguarda l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni idroelettriche di fornire ogni anno a titolo gratuito alla regione 220 kWh di energia elettrica per ogni kWh di potenza nominale media di concessione, ovvero, su eventuale indicazione dell'aggiunta, di monetizzare il valore equivalente. Questo già a partire dall'anno in corso. Almeno il 50% dell'energia o del corrispettivo economico è destinato a servizi pubblici o categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni, ma la regione, nella definizione delle percentuali, può arrivare al 100%.